Fermi immediatamente il veicolo! Se ti prendono, ti rinchiudono dentro un laboratorio e questo lo sai! Che puoi fare adesso? Fermi immediatamente la macchina! Ia non ha il piano controllo del tuo potere! Finalmente. Ti ho cercato nel corso degli anni. Perché sono qui? Voglio la formula nel tuo sangue. Quale formula? Quella che permette di dar vita o annullare i tuoi poteri. Che significa tutto questo? È questo, il vero potere. Far credere agli altri quello che vuoi che credano. E restare invisibili. Dobbiamo uscire da qui. Sai combattere? Hai due opzioni? Vian! Non c'è tempo! Proseguire il cammino che hai intrapreso e che ti porterà solo dolore e sofferenza. O venire con me. Papà, perdonami. Chi era? Un percettore. Riesce a creare delle illusioni e moltissime altre cose. È il soggetto più potente che abbiamo mai affrontato. È la diversità che ti rende forte. Sarai implacabile. Sei entrato nella mia mente. Voglio sapere chi sono. Siamo un prodotto, Vian. Ce ne sono altri come te. Mew was a myth. E grazie alla formula... Non ascoltarla! ...abbiamo potuto sviluppare delle capacità extrasensoriali. L'occhi è dopo la parola. Grazie a tutti.